Le sue grandi opere edilizie dagli anni 70 in avanti hanno contribuito all'amodernamento urbano della città di Pesaro, una città nella quale Italino Mulazzani è morto nel weekend di Pasqua. Il noto costruttore edile aveva 86 anni ed è venuto a mancare all'ospedale San Salvatore di Pesaro dove era ricoverato affetto da gravi patologie cardiache all'interno di un quadro clinico preoccupante che nei giorni scorsi aveva persino portato alla voce incontrollata e prontamente censurata di una sua prematura di partita. Questa volta Mulazzani se ne è andato per davvero. Aveva contratto il Covid-19 nonostante fosse in attesa del richiamo del vaccino dopo la prima dose che gli era stata somministrata il 25 febbraio. Non è ancora stata fissata la data del funerale ma si sa già che si terrà a Montegridolfo, paese natale di Mulazzani e di parte della sua famiglia. Italino lascia la moglierina e i figli Fabio e Orietta e lascia un'eredità edilizia che ha cambiato il volto di Pesaro ed è la vicina Romagna. Nei decenni Mulazzani è stato protagonista della trasformazione della città di Pesaro dal quartiere della Torraccia dove realizzò l'allora Bipia Palace, oggi Vitrifrigo Arena, ma anche lì per Rossini, il vicino cinema multisala o lo stabile del lobby. Opere che hanno cambiato la città come il nuovo Tribunale Al Carducci o la struttura alberghiera dell'hotel Flaminio, poi diventato Baia Flaminia Resort, ma anche tantissime strutture residenziali, da Via Mameli alle più recenti torri di Largo Ascoli Piceno in zona Tombaccia. Ha cambiato anche il volto di Rimini con la realizzazione del centro commerciale Le Befane o del Palasport Cittadino, oggi rinominato RDS Stadium. A Riccione si ricorda il suo ex Hotel Esmeraldo di Viale Ceccarini e a Cattolica la struttura in cui sorge la celebre pasticceria Staccoli. Amante di sport, Mulazzani nel 1984 fondò la bocciofila Monte Gridolfo con cui vinse pure lo Scudetto nel 2010 e in cui era tuttora presidente onorario.